Questa settimana si osserva un'ulteriore lieve flessione dell'incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese e il tasso di incidenza si fissa a 38 casi per 100.000 abitanti. L'RT mostra invece delle oscillazioni, siamo a 0,96, comunque al di sotto della soglia epidemica. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva, siamo rispettivamente al 4,1 e all'1,1%, quindi c'è una lieve diminuzione dell'occupazione dei posti di area medica mentre la terapia intensiva è più o meno stabile. Quindi c'è una sostanziale stabilizzazione della situazione epidemiologica che appare al momento del tutto tranquilla.